Amici, è il turno della bolognese Zephyr Master, una canna di ottimo rapporto qualità prezzo, una bolognese prodotta in carbonio e alta resistenza, ideale per tutti i pesca sportivi e anche quelli meno esperti. È una canna che è disponibile da 4, 5, 6, 7 metri, ideale per la pesca impassata con galleggianti fino a 20 rami, ottima per la pesca in mare e per la pesca dai forti.